Musica Cari telespettatori, benvenuti a Primo Cittadino, il programma di Fanu TV che ospita i sindaci della nostra provincia, del nostro territorio. Protagonista di questa sera è il sindaco di San Costanzo, Filippo Sorcinelli. Bentornato nei nostri studi, sindaco. Grazie, direttore. Buonasera a tutti. Vi ricordo come sempre che potete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un breve messaggio di testo, meglio se su WhatsApp, al 338 49 68 250. Numeri di telefono che comunque vedete in sovraimpressione. Sindaco, nel corso di questa diretta faremo il punto dei lavori terminati, di quelli in corso e anche di quelli in partenza. Negli ultimi 14 mesi, secondo i dati che lei ci ha fornito, l'importo complessivo per le opere pubbliche ammonta quasi 4,5 milioni di euro. Quali sono stati gli investimenti più importanti? In realtà superiamo i 4,6 milioni e sicuramente le opere principali, una su tutte, l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Un progetto da 1.360.000 euro di cui oltre 1.100.000 sono lavori e come potete ben vedere dall'immagine si tratta della sostituzione dei vecchi corpi illuminanti al sodio con nuovi corpi illuminanti a led. In questo caso stiamo facendo vedere l'efficientamento energetico dello stadio che invece avverrà con un ulteriore tranche di 50.000 euro. Ma tornando su questo 1.360.000 euro devo dire è un investimento ed è un lavoro che copre l'intero comune di San Costanzo. Quindi ogni palo, ogni corpo illuminante che è presente sulla pubblica via di San Costanzo, sto parlando sia di strade comunali che di strade provinciali, vedrà la sostituzione del vecchio corpo illuminante con il nuovo corpo illuminante a led. Questo progetto prevede già degli aumenti di punti luce e grazie al ribasso d'asta che abbiamo ottenuto dalla gara sicuramente aggiungeremo nuovi punti luce a zone che non hanno attualmente, ne sono sprovviste. Questo è molto importante dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico. Dal punto di vista ambientale perché è un grande risparmio di CO2. Dal punto di vista economico per le casse del comune e quindi anche per tutta la nostra collettività perché chiaramente un efficientamento energetico poi riporta anche un grande risparmio tant'è che già con l'approvazione del bilancio di previsione che abbiamo portato come ogni anno entro il 31 dicembre abbiamo già previsto all'interno del nostro bilancio un risparmio energetico dovuto da diversi fattori tra cui quello dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. L'altro intervento che ha una bella rilevanza dal punto di vista economico? L'altro intervento che ha una bella rilevanza sicuramente è il risanamento del dissesto idrogeologico della zona con le mari. Quindi se da una parte parlavamo di messa in sicurezza delle casse comunali e dell'ambiente qua sicuramente parliamo di messa in sicurezza del territorio. In una zona notoriamente franosa che è quella di Colle Mare ebbene negli ultimi sei anni puntualmente ogni anno presentavamo il nostro progetto prima alla Regione Marche e poi al Ministero degli Interni. Finalmente il Ministero degli Interni ha approvato il nostro progetto da 1.200.000 euro di cui 990 da finanziamento statale poi confluito all'interno del PNRR e ben 210.000 euro dalle casse comunali, dal bilancio comunale. E su questo devo dire a tutti i concittadini di essere particolarmente fieri e orgogliosi della tenuta di bilancio del nostro Comune perché questo ci permette di fare delle compartecipazioni importanti come in questo caso 990 dello Stato, 210 del Comune ci permettono di mettere in sicurezza una zona franosa che altrimenti insomma nei prossimi anni avrebbe avuto sicuramente dei grandi problemi. e poi va bene. Altri tipi di efficientamento energetico che forse vedremo fra poco perché ci teniamo veramente tanto. Ad esempio quello del teatro? Eh sì. Avete fatto un bel regalo di Natale? Abbiamo fatto sicuramente un bel regalo di Natale. A noi il regalo di Natale ce l'ha fatto l'Europa con Next Generation U quindi con i fondi PNRR. Abbiamo vinto questo bando per l'efficientamento energetico di teatri e cinema. Il titolo era proprio questo. L'investimento diretto dal Ministero della Cultura, dal MIMBAC ebbene sono arrivati 342 mila euro. Anche qui 250 mila euro da parte dell'Europa e 92 mila euro previsti dalle casse comunali. Sono lavori che sono durati per circa 9-10 mesi, direttore, che il 17 dicembre hanno visto la riapertura della nostra bomboniera di cui veramente andiamo tanto orgogliosi. Vedete questa bellissima foto. E anche qui un risparmio energetico importante che ci permette, anche qui un risparmio sulle casse comunali, ma punto 2 ci permette di non aumentare le tariffe di utilizzo del nostro teatro che già sono basse e che permettono a tantissime compagnie del territorio provinciale ed extra provinciale di venirsi ad esibire nel nostro teatro. Chiaramente parliamo del programma extra, quello che fa parte dell'amministrazione comunale, veramente con delle tariffe molto importanti. Qui abbiamo chiaramente cambiato le caldaie, passando a delle caldaie più moderne e con un maggior risparmio. Abbiamo poi eseguito nella platea un riscaldamento a pavimento e questo ci ha consentito poi di fare anche la pavimentazione di rovere, di rovere in legno, quindi migliorando anche l'acustica. E poi abbiamo sostituito tutte le luci con corpi illuminanti a LED. Un bel lavoro. Un messaggio per lei, Sindaco. Siamo nel 2024, perché siamo ancora l'unico paese in zona senza la fibra ottica? Beh, questa domanda la dovrebbe sicuramente girare il nostro concittadino o la nostra concittadina, in primis alla Regione Marche, che è a capo della gestione del progetto Open Fiber Infratel, a Re Bianche, che vede la presenza sul nostro territorio di Open Fiber, che ha poi subappaltato a Cogepa, beh, vede la presenza di questo cantiere da oltre 15 mesi. Cantiere che ancora non è finito, cantiere che tra l'altro doveva partire tre anni fa. Abbiamo avuto anche diverse video call con la Regione Marche e con i propri dirigenti. pare, e diciamo uso questa discrezionalità non a caso, perché Open Fiber di date di consegna dei lavori ce ne ha date veramente tante e tutte mai rispettate. La banda ultralarga è fondamentale per la nostra città, è fondamentale per il nostro paese, sia per le due zone artigianali che abbiamo all'interno del nostro territorio, ma chiaramente anche per tutti quei cittadini che con la linea internet ci lavorano e hanno bisogno di connettività e velocità importanti. Quindi spesso noi abbiamo fatto delle lettere di contestazione, chiaramente, ad Open Fiber e a Infratel passando per la Regione, poche volte ci hanno risposto. Quindi non ci sono delle scadenze da dover rispettare per contratto che lei sappia? Ma sicuramente ci sono e sono già Open Fiber e in Mora ha già quindi delle multe salate da parte di Infratel che è uno strumento governativo per la gestione di questi appalti. Passiamo ai collegamenti ma su strada, dovremmo avere un rendering della pista ciclopedonale, in questo caso del circuito. Eccolo qua. Beh, sì. Qui si tratta di messa in sicurezza? Allora, qui si tratta della messa in sicurezza del circuito ciclopedonale della Valle dei Tufi di Stacciola. Questo è un progetto importantissimo che abbiamo portato avanti con il GAL Flaminia Cesano, un intervento di 95 mila euro, dove 50 mila euro anche qui arrivano dall'Europa per l'aiuto del GAL Flaminia Cesano ma anche della regione, 45 mila euro dalle casse comunali. Qua, direttore, colleghiamo sette comuni con percorsi dolci, lenti, ciclopedonali. Il nostro tratto parla di 11,3 chilometri di percorso ciclopedonale che poi si collegherà con Trecastelli, Corinaldo, Monteporzio, San Lorenzo in Campo, Mondavio e Fratterosa. Compreso San Costanzo, sono sette comuni, un investimento importante perché questo tipo di turismo, come vediamo, ci sta dando delle grandissime soddisfazioni, soprattutto dopo il periodo del Covid. Noi veramente ogni weekend vediamo una concentrazione di ciclisti sia su strada ma soprattutto in campagna con mountain bike e pedalata assistita, veramente una presenza molto importante che fa lavorare anche le nostre attività. Un altro messaggio per lei. Buonasera signor Sindaco. Interventi da parte di San Costanzo sul rischio idrogeologico di Rio Crinaccio con relative esondazioni alla foce di Ponte Sasso? Qui ci dovrebbe essere un accordo con il Comune di Mondolfo, dico ci dovrebbe essere perché stiamo aspettando un progetto che riguarda chiaramente la zona che per noi è quella che è su via strada di mezzo perché dovete capire che quella strada non a caso si chiama così perché per metà riguarda il territorio di San Costanzo, a nord guardando verso l'autostrada e guardando verso mare per un tratto riguardo al Comune di Mondolfo, per un tratto riguardo al Comune di Fano. C'è un accordo verbale tra i sindaci, tra i responsabili degli uffici tecnici dei nostri comuni, San Costanzo e Mondolfo, per cui stiamo aspettando il progetto da parte del Comune di Mondolfo per poi mettere la nostra quota, la nostra parte. Torniamo in strada, lavori sui marciapiedi e asfalti? Sì, quello è un altro punto di cui insomma io e la mia giunta andiamo veramente molto orgogliosi perché siamo alle fasi finali con il marciapiede sulla strada provinciale 17, ovvero strada Mondolfo, un progetto finanziato in compartecipazione con la provincia di Pesaro Urbino, un progetto di 165 mila euro dove 105 mila euro sono in carico all'ente provinciale, mentre 60 mila euro dalle casse comunali. Su progetto redatto dalla provincia mancano veramente pochissimi metri per completare i 330 metri che metteranno in sicurezza i pedoni di una zona particolarmente abitata come quella di Colle Mare, come quella di Via 25 Aprile, come quella di Via Giotto, pardon, come quella di Via Primo Maggio che poi ci permetteranno insomma di mettere in sicurezza i pedoni in modo particolare pensando agli utenti più deboli come i bambini. L'altro marciapiede addirittura d'arrivo, anzi che sta veramente per essere conclusa, manca solamente il tappetino di binder è il marciapiede che prima abbiamo completato in Via San Fortunato e adesso andiamo a completare in Via Garibaldi per 133 mila euro. L'ultimo è quello molto importante, da 330 mila euro, progettazione e finanziamento del Comune di San Costanzo che vedrà tra poche settimane protagonista la frazione di Cerasa sulla strada provinciale 16, sulle SP 16, per ben 360 metri. Quindi anche qui, ritornando al tema della sicurezza e della messa in sicurezza, altri interventi per la messa in sicurezza dei nostri cittadini. Quando arriva la bella stagione di solito partono anche i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Esattamente, abbiamo il progetto esecutivo già approvato per 280 mila euro e i tratti che andremo ad asfaltare quest'anno, perché poi San Costanza ha un territorio di 85 km di strade comunali. Quindi capite che è importante ogni anno fare il nostro dovere, piano piano sicuramente si arriverà dappertutto, perché l'ufficio tecnico ha chiaramente la situazione sotto controllo e quest'anno andremo ad asfaltare, a fare la straordinaria manutenzione di via Fonte Casello, di via Del Brecione, che è in località Stacciola, di via Martiri della Resistenza, di via Bacchiocchi, di via Friuli, in località Cerasa, di via Rosario, sempre in località Cerasa, via San Martino, via Roma, Traversa Sul Fanuccio, via Monte Barile. Un intervento di 280 mila euro. A Stacciola anche rifacimento della pavimentazione del centro storico? Esatto. Qua parliamo di un'inaugurazione fatta nello scorso 2023. Mi faceva piacere riportarla perché è avvenuta in aprile. Noi direttori ci eravamo visti a gennaio e fa parte insomma di questo elenco di opere fatte, portate a casa negli ultimi 14 mesi. Qua è bello raccontare una cosa di questo progetto. Si tratta di un progetto di 250 mila euro dove pensate il comune ha investito 113 mila euro. 102 mila euro arrivano da fonti Fessere e PSR e pensate 35 mila euro sono stati messi a disposizione dal locale comitato cittadino di Stacciola. Quindi io l'ho detto durante l'inaugurazione, vedete qua anche i nostri prestigiosi ospiti presenti, piccoli e grandi. L'ho detto in quell'inaugurazione, ebbene parte di questo marciapiede è stato fatto con la crescia di Stacciola perché grazie a questa importante festa all'interno di questo nostro piccolo grande burgo si è riusciti, e non è la prima volta che il comitato lo fa, ad investire su un'opera pubblica per poterla completare al meglio. Quindi lo dico con un certo orgoglio ed una certa emozione. Grazie. Ci spostiamo a Solfanuccio perché abbiamo visto grandi, piccini, anche un centro di aggregazione fa sempre parte della comunità. Esatto. E quindi in questo caso parliamo di lavoro in partenza? Sì, parliamo di lavoro in partenza perché se qualche mese fa abbiamo approvato lo studio di fattibilità, adesso andremo ad approvare il progetto esecutivo che ci permetterà, e questo abbiamo già verificato, possiamo farlo, di poter accendere un mutuo con cassa depositi e prestiti per la realizzazione, e lo vedete, il rendering del centro di aggregazione località Solfanuccio per circa 350 mila euro. Solfanuccio, oltre ad essere nota a molti telespettatori di Fanno TV perché faceva parte degli sketch del San Costanzo Show con il sindaco di Solfanuccio, il grande amico con pianto Peppe Nigra, chiaramente mi sto riferendo a lui. Solfanuccio è veramente un quartiere molto importante per la nostra comunità perché negli anni è cresciuto, pensate, lo è sempre stato un quartiere importante perché addirittura lì c'era una scuola elementare. Ebbene, dove prima c'era la scuola elementare e ora c'è un piccolo campo polivalente, noi abbiamo pensato proprio di portare il centro di aggregazione che come vedete ha un bel aspetto, ma la cosa principale anche qui è il risparmio energetico, direttore, perché sarà completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, sia con pompe di calore che con pannelli fotovoltaici e quindi insomma pensiamo di portare a casa un risultato che contempla l'efficienza e il risparmio. Taglio del nastro per quando è previsto? Beh, il taglio del nastro sicuramente il prossimo anno, quest'anno sicuramente riusciremo a mettere la prima pietra, riusciranno a partire i lavori, però insomma non quest'anno. Abbiamo ancora tanto sindaco di cui parlare, però ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli. Sindaco, le chiedo se avete altri progetti nel cassetto, perché anche, lo ricordiamo, scade a breve il suo primo mandato, poi le chiederò se ha intenzione di ricandidarsi, però si lavora sempre con un'ottica a medio-lungo termine. Bisogna sempre avere progetti nel cassetto, questo è un segreto di Pulcinella, ma funziona quando uno ha dei progetti nel cassetto. Ebbene, noi in questo momento abbiamo tre importantissimi progetti nel cassetto. Il primo è quello per i nuovi spogliatoi dello stadio di San Costanzo, per 620.000 euro. Qua tutti i miei concittadini possono vedere per la prima volta il rendering. Anche qui si tratta veramente di un progetto architettonicamente bello ed energeticamente funzionale. Anche qui autosufficienza energetica al 100%. Qua in realtà, direttore, abbiamo già provato a partecipare al bando sport e periferie, che esce ogni anno, e abbiamo avuto purtroppo esito negativo. Però questo bando sappiamo, per certo, perché ne abbiamo contezza, che esce ogni anno, e quindi il prossimo anno, insomma, riproveremo a ripresentarlo. Perché dovete sapere, chi ha già vinto il bando sport e periferie, poi per molti anni non può ripresentarci. Quindi prima o poi arriviamo anche noi in classifica. Il secondo progetto importante, invece, di cui attendiamo risposta, è un progetto per 760.000 euro, riguarda l'ex scuola elementare di Stacciola. Qua abbiamo presentato il progetto al bando piccoli comuni, ancora dobbiamo avere risposta. Si tratta del recupero di questo edificio così importante per quella comunità in particolare di Stacciola, ma per tutta la comunità di San Costanzo, prevede una destinazione sociale e turistica, sociale al primo piano, turistica al secondo piano. E il bello di questo progetto, che non sto a ripetervi, sarà sicuramente l'efficientamento energetico, sarà l'autosufficienza energetica. Qua abbiamo messo qualcosa di più, sperando che questo ci possa aiutare ad avere più ponteggio. Qua si parla di geotermia, addirittura, per il risparmio energetico. E' un progetto, da questo punto di vista, veramente innovativo. Il terzo progetto che abbiamo nel cassetto parla di archeologia. Ebbene, dovete sapere che a San Costanzo c'è una necropoli picena estremamente importante. I primi ritrovamenti sono stati effettuati nei primi del 1900 e gli ultimi anche pochissimi mesi fa, pochissimi anni fa. Ebbene, qui vedete rappresentata la dama del flabello. Il flabello è questa collana grande che ha sotto il mento questa nostra vecchia principessa Picena, la dama del flabello. E questo flabello è rappresentato da tante perline di diversi materiali. Ebbene, qui con la collaborazione della sovrintendenza, del Sabap, delle Marche, abbiamo presentato un progetto di 125 mila euro per la musealizzazione della dama del flabello, per la ristrutturazione dell'attuale museo dei Piceni, strizzando l'occhio chiaramente anche alle ultime tecnologie multimediali, digitali. Anche qui è un progetto che due anni fa abbiamo già provato a presentare ad un bando del Ministero della Cultura e anche qui riproveremo a presentarlo. Però è importante, anche dal punto di vista archeologico, storico, per il nostro bellissimo museo di Palazzo Cassi, poter avere qualcosa che valorizzi di più questa necropoli Picena così importante per San Costanzo e per tutto il nostro territorio. Dalla cultura passiamo alla sicurezza. C'è un progetto denominato Sofia, coordinato dalla Prefettura. San Costanzo ha aderito? Noi abbiamo aderito molto volentieri perché due anni fa, con 80 mila euro provenienti dal bilancio comunale, quindi interamente finanziati dal Comune di San Costanzo, abbiamo dotato il nostro territorio di sei varchi OCR per lettura targhe particolarmente importanti per la sicurezza e che pochi mesi fa, come i miei concittadini sanno, hanno portato ad importanti risultati andando anche a fermare dei malviventi, sia all'interno del territorio comunale, ma poi con un sistema di lettura dati malviventi che avevano operato nel Comune di San Costanzo e poi fermati in Veneto. Non solo Targa System, lettura targhe, sei varchi OCR, ma abbiamo dotato diverse parti del nostro Comune, mi riferisco anche alla frazione di Stacciola, mi riferisco anche alle scuole, al polo scolastico di San Costanzo, anche di telecamere tradizionali, ma HD. Ebbene, quindi quando poi il questore e il signor Prefetto ci hanno presentato questo progetto così importante, noi abbiamo aggerito subito, convintamente, e riteniamo che questo progetto che permette a tutte le forze dell'ordine della nostra provincia di avere accesso immediatamente alle nostre immagini, alle nostre letture targhe, possa, diciamo così, rendere più difficile la vita dei malviventi. Sindaco, nello scorso ottobre avete inaugurato un'area giochi adecente al campo sportivo. Ricordo che aveva detto, chissà mai, magari in futuro possiamo aggiungere nuove attrezzature. Ecco, avete anche questo intervento in programma? Sì, devo dire che è una di quelle cose che, a prescindere dall'inaugurazione delle piazze, a prescindere dal taglio del nastro per la riapertura di importanti luoghi, sicuramente, quando parliamo di attrezzare aree di gioco per i bambini, questa è una cosa di cui vado particolarmente orgoglioso, non è la prima volta che lo facciamo, perché è importante che i bambini stiano all'aria aperta e sempre meno, insomma, di fronte ai tablet, ai televisori, lo dicono anche i dottori, chiaramente. Ebbene, né in quell'area che abbiamo inaugurato da poco, contiamo nei prossimi mesi di aggiungere altri giochini, perché si tratta di un'area verde adiacente allo stadio comunale, anzi, adiacente al campo insintetico, dove i bambini vanno già ad allenarsi, un'area importante per poter inserire altri giochi. Parliamo di eventi, tra poco le chiedo delle iniziative legate a Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, ieri però ha pubblicato un post che noi abbiamo ripreso dai social, prendiamo quello che ha pubblicato il sindaco sul profilo Facebook, ricordiamo a casa che si è svolta la 215esima Sagra Polentara, la più antica delle marche, però si è arrabbiato il sindaco, che cosa è successo? Ha scritto che non è stato invitato? No, arrabbiato non è il termine giusto, sono dispiaciuto, non tanto per quanto riguarda il sottoscritto, cioè Filippo Sorcinelli, ma per quello che rappresento, cioè il sindaco di San Costanzo e l'ente comune di San Costanzo. La Sagra è stata bellissima, faccio subito i complimenti a tutti i polentari, a tutti i volontari, soprattutto ai più giovani, perché è stata una festa veramente bella, devo dire indimenticabile, perché ogni cosa è andata al punto giusto tranne una. Non c'è stata la cortesia istituzionale di invitare il sindaco al taglio del nastro, che tra l'altro non era, forse qualcuno dice, nemmeno previsto. Ebbene, c'era la presenza di due graditissimi ospiti politici, si tratta di un assessore regionale, si tratta di un onorevole parlamentare, presidente della Commissione Agricoltura, però in quel momento non ci si è accorti che mancava il primo cittadino e per di più questo primo cittadino non è stato chiamato nemmeno quando uno dei due graditissimi ospiti politici aveva fatto notare al presidente l'assenza del sottoscritto, che era a pochi metri a suonare con il gruppo folcloristico La Matta di San Costanzo anticipando la sfilata dei bambini dell'asilo. Ebbene, l'ho fatto l'anno scorso, lo avrei fatto anche quest'anno, con la divisa della Matta, che è una divisa di cui io vado veramente molto fiero, avrei messo la fascia tricolore, avrei tagliato quel nastro e da questo punto di vista devo dire che è stata una cosa particolarmente grave non per me, ripeto, ma per quello che rappresento il comune di San Costanzo non invitare il sindaco al taglio del nastro della più antica sagra delle Marche che tra l'altro ha visto il sottoscritto crescere all'interno di quello steccato da giovane Pollentaro, poi segretario della Proloquo e poi anche vicepresidente di questa prestigiosa associazione. Quindi dispiacere, non arrabbiatura. Ma dopo questo post ha avuto un riscontro da parte degli organizzatori o dei cittadini? Ho avuto un'e-mail da parte del Presidente, una telefonata da parte del Presidente, Antonio Calabrese, al quale ho risposto quello che ho detto poco fa a lei, direttore, che diciamo il dispiacere non è tanto per il sottoscritto ma per quello che rappresento. Dispiace perché mi sembra veramente molto strano che non ci si sia accorti dell'assenza del sindaco a quel taglio del nastro, che sia stata una dimenticanza. Guardiamo avanti perché iniziano altre iniziative molto importanti, mancano pochi giorni per San Costanzo da Capitale Italiana della Cultura. Che cosa avete in programma? Ci siamo finalmente dal 18 al 24 di marzo, San Costanzo sarà Capitale della Cultura. Ringrazio fin da subito tutte le associazioni che da maggio si incontrano con il sottoscritto, con l'assessore Anna Maria Sabatini e con il maestro Nicola Gaggi, che è uno dei tre interlocutori che ho indicato per l'organizzazione di questa settimana, che sarà veramente ricca di iniziative. Parliamo di oltre 30 iniziative in sette giorni, sette rappresentazioni, sette eventi al Teatro della Concordia di San Costanzo, tra cui il concerto della banda musicale Cittadina e un momento per i più piccoli con Andar per Fiabe, quattro iniziative ed eventi culturali, tra cui conferenze molto importanti, quattro presentazioni di libri, quattro serate speciali all'interno dei nostri ristoranti, tre iniziative nelle nostre preziosissime cantine vitivinicole, due escursioni nel territorio, l'accensione del forno pubblico di Stacciola ogni giorno della settimana, la gara di lancio del formaggio a squadre, un'iniziativa fantastica che parla di poesia diffusa, il progetto altrettanto bello, anche qui di questo andiamo molto orgogliosi, della scuola secondaria di primo grado dedicato alla botanica, il titolo dell'anno della cultura e la nottura della cultura, quindi ci si deve concentrare su questo, Sagra delle Sagre, attendetevi in piazza Perticari, sabato 23 di marzo, una concentrazione delle nostre sagre, perché a San Costanzo abbiamo la fortuna di avere quattro sagre durante 12 mesi, la Crescia di Stacciola, la Polenta di San Costanzo, la Tripa alla Cerasana, lo stufato al cinghiale dei ragazzi delle osterie di Cerasa, i giulci della tradizione dei pensionati, avremo poi la scuola della Crescia, per chi vuole imparare a creare questo piatto unico e anche ad infornarlo nel forno pubblico e poi chiaramente tantissime visite guidate, aspettiamo tutti voi e tanti turisti per questa settimana così importante. Ma per tutti i gusti, per tutte le età. Ma infatti il titolo della nostra settimana è appunto Il gusto della cultura, la cultura del gusto, perché la nostra settimana parlerà di sapori, di colori e di tradizioni. Sindaco, dicevamo prima durante la diretta che quest'anno è in scadenza il suo mandato, che cosa farà? Si camminerà nuovamente per il secondo? Direttore, la prendo un po' alla larga per dire questo. Fare il sindaco è sicuramente il lavoro più bello del mondo perché ti permette di lavorare per la tua comunità, la comunità in cui sei cresciuto, la comunità in cui vivi, la comunità in cui hai intenzione di invecchiare. Fare il sindaco è un impegno importante, è un impegno gravoso. Sette giorni su sette, non dico 24 ore al giorno, ma quasi, e sul tavolo del primo cittadino passano veramente tutti i dossier del comune, a prescindere dagli assessorati e dalle deleghe che poi il sottoscritto si è tenuto per sé. E quindi l'impegno è particolarmente gravoso. Aggiungiamoci il fatto che il sottoscritto fa l'imprenditore, ha un'azienda che fortunatamente è in crescita, va bene, è un'azienda fondata da mio babbo che non c'è più, 47 anni fa, è un'azienda fondata tra l'altro pochi giorni prima che io nascessi, e la somma di questi due lavori così importanti potete capire che crea poi un impegno particolarmente faticoso da entrambe le parti che potrebbe rischiare poi di non poter portare più avanti con serenità l'impegno che sicuramente in questo momento è il più importante ed è il più bello, quello di fare il sindaco, ed è per questo che ho deciso di non candidarmi. Ah però, non mi aspettavo questa sua decisione, tra l'altro ricordiamo che lei è stato eletto con oltre il 65% delle preferenze per cui tanti suoi concittadini hanno creduto in lei. Ma guardi, ancora tanti concittadini credono in me, ma devono sapere e lo sanno, mi conoscono, che sarò sempre pronto ad aiutare chiunque, a portare la mia consulenza, diciamo, perché comunque fare 5 anni il sindaco, perdono, stare 16 anni in comune perché io ho fatto per 6 anni l'assessore, 5 anni il vice sindaco, 5 anni il sindaco sicuramente ti porta a dover capire la complessità delle questioni e a saperle gestire in maniera sicuramente più pronta di quando ancora non avevo ancora fatto il primo passo all'interno del municipio. Quindi io non fugo, ci sono e sarò sempre a disposizione di tutti i miei amici, di tutti i miei concittadini per poter dare una mano per la crescita del nostro paese, però non mi candiderò. Avete già individuato il suo successore candidato? Io credo che tra pochi giorni tutti scopriranno le carte all'interno del comune di San Costanzo perché si vota il 9 giugno, siamo già il 4 di marzo, quindi credo che tra pochi giorni in molti scopriranno le proprie carte. Si sta lavorando. Comunque, come ha detto lei, rimarrà a lavorare dietro le quinte? No, 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 tolgo subito ogni dubbio, io non mi candiderò anche in questa nuova lista dei miei amici di questo tavolo politico che è in corso in queste settimane, che è in corso da mesi per cercare un nuovo candidato, però sono ancora una persona giovane, piena di energia ed è particolarmente legata a questo territorio e una cosa la voglio dire, mi sono fatto una grande esperienza in fatto di discariche, quindi i futuri amministratori di Fano, della provincia, sappiano che avranno sempre un interlocutore che la salunga su queste questioni e i miei concittadini devono sapere che l'impegno per non far ampliare la discarica di Monteschiantello sarà sempre il mio primo impegno, quindi quando parlavo di consulenze, di esperienza, io ci sarò, perché non permetteremo a San Costanzo che venga ulteriormente ampliata la discarica di Monteschiantello, sono 45 anni che sopportiamo questa invasione di campo, chiamiamola così. Siamo già in ritardo e siamo in chiusura, ma visto che evidentemente questa sarà la sua, al momento, la sua ultima puntata da primo cittadino per quanto riguarda il nostro programma, le chiedo se in questi cinque anni ha fatto qualcosa che le sta particolarmente a cuore? Sì, ci pensavo qualche giorno fa, a prescindere dall'aver portato a casa diversi milioni di lavori pubblici, come dicevo poc'anzi, tra l'altro solo negli ultimi 14 mesi, 4,5 milioni, ma più di tagliare il nastro per nuove inaugurazioni, più che inaugurare nuove piazze, nuovi spazi, le cose più belle sono le cose date e fatte per i nostri concittadini più piccoli e più grandi, diciamo così. Quindi l'aver creato il Concilio Comunale dei Bambini e aver creato uno spazio per i nostri anziani che ogni giovedì si incontrano tutti insieme appassionatamente e devo dire che danno tanto alla nostra comunità, danno tanto a chi è più giovane. Vista la sua emozione credo che abbiano dato tanto anche a lei, quindi lei ha dato ma anche ricevuto. Ah, ho ricevuto tantissimo. Sindaco, grazie per essere stato nostro ospite e in bocca al lupo per tutto, per il suo futuro. Viva il lupo. Grazie ancora a Filippo Sorcinelli per essere stato nostro ospite, un ringraziamento a chi sta lavorando in regia, Riccardo Sora e Cristiana Guerra. Noi ci vediamo alle 20.30 per il telegiornale Occhio alla Notizia, più tardi.